test medicina 2022 news simulazioni test medicina borse di studio e agevolazioni per chi si iscrive all'università come si calcola ise universitario immatricolazioni barra verticale calcolo tasse universitarie come calcolare il voto di laurea numero chiuso ricorso ud siamo vicini all'abolizione del numero chiuso all'università non lo sappiamo con certezza ma ciò che è sicuro è che l'unione degli universitari sta lottando per questo il miur dopo la battaglia dell'udu riaprirà infatti le graduatorie delle università numero chiuso dell'anno accademico 2015-2016 che erano state chiuse anticipatamente un'altra importante vittoria dell'unione degli universitari che con lo studio legale bonetti ha vinto dopo due anni in seguito a un ricorso graduatore università a breve la riapertura dopo il ricorso vinto dall'udu verranno riaperte le graduatorie delle facoltà numero chiuso a partire dall'otto gennaio 2018 e solo per quanto riguarda le graduatorie dell'anno accademico 2015 fratto 2016 che erano state oggetto di chiusura anticipata l'importante vittoria sottolinea l'udu andrà a favore di centinaia di studenti che chiedevano la riapertura delle graduatorie gli universitari a partire dall'otto potranno collegarsi alla loro area riservata su universitari e controllare la loro situazione aggiornata udu il ricorso contro i test d'ammissione elisa marchetti coordinatrice nazionale dell'unione degli universitari rivela che la riapertura delle graduatorie non andrà a vantaggio solo delle matricole direttamente interessate cioè degli studenti iscritti al primo anno nell'anno accademico 2015 fratto 2016 ma influirà positivamente anche sulle graduatorie delle facoltà numero chiuso degli anni accademici successivi moltissimi studenti hanno congelato la loro posizione in attesa che la vicenda relativa alla chiusura anticipata delle graduatorie arrivasse a conclusione ora è facile immaginare come ci saranno degli scorrimenti consistenti su tutte le graduatorie degli anni successivi al 2015 è compito del ministero ora evitare che si perda altro tempo e quindi facilitare le procedure di iscrizione per tutti gli studenti interessati intervenendo con direttive chiare verso gli atenei la battaglia dell'udu non si ferma qui come conferma elisa marchetti vogliamo che la politica si assuma nel corso della prossima legislatura la responsabilità di abrogare la legge 264 fratto 1999 andando finalmente verso un sistema di accesso che superi la programmazione e che rispetti la costituzione che agli articoli 3 e 34 indica l'università come libera e accessibile una vittoria quella ottenuta dall'udu che si inserisce nella più ampia protesta che l'associazione conduce da tempo contro i test d'ingresso per le facoltà ad accesso programmato una vittoria che ci avvicina sempre di più all'abolizione del numero chiuso grazie a tutti